Ciao a tutti, sono le 16 e 7 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Abbiamo iniziato con Cuore e Vento, un titolo che ci è stato proposto dall'amico Francesco Kadedu, che è Francesco. Francesco è l'allenatore della squadra femminile di pallavolo, il CFC, Club Femminale de Cartage, che ha vinto ultimamente il campionato africano di pallavolo qui a Tunisi e in modo più preciso a Monastir. È stato un torneo bellissimo, direi intenso e poi dopo un quarto tentativo il CFC ce l'ha fatta a vincere questo titolo. Parleremo di tutto quanto fra qualche minuto. Francesco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e saluto gli ascoltatori. Grazie di aver accettato il nostro invito. Con lui l'amico gli SSL, responsabile nella squadra del CFC. Si occupa della squadra femminile, dunque è stato lui a portare qui Francesco a Tunisi. Lies, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Precisamente sono il responsabile, sono vicepresidente e responsabile del sviluppo del CFC. D'accordo. Allora parleremo di pallavolo, l'avete sicuramente capito. Francesco, abbiamo iniziato con Cuore e Vento del gruppo Modà e poi Tazenda. Perché questo titolo? Beh, prima di tutto perché è una canzone che mi piace molto e ricorda la Sardegna, che è una terra a cui sono legato molto. Mio nono era sardo e credo che nella mia vita tornerò sicuramente a vivere in Sardegna. Tifoso del Cagliari? No, della Juventus, ma comunque la Sardegna rimane nel mio cuore sempre, anche per motivi d'amore. E hai sicuramente visto la partita di ieri contro il Barcellona, dunque? Sì, ho visto qualcosa, anche se noi stavamo facendo allenamento perché sabato abbiamo una partita molto importante e quindi ho visto solo il secondo tempo e qualche spezzone del primo mai inregistrato. E la Juve che sta ritornando ai livelli di prima, direi? Sì, diciamo che in Italia è la squadra più forte, quella che sta comandando sportivamente da diversi anni ormai. Dopo le vicende legate al calcio scommesse, calcio non scommesse, ma furti arbitrali e così via. Io da tifoso mi posso solo limitare ad ascoltare quello che poi la giustizia sportiva ha detto, ma faccio veramente fatica a capire e a pensare che la Juventus abbia potuto fare una cosa del genere. Però questa è stata la giustizia, questi sono stati i risultati delle inchieste, quindi ok, siamo ripartiti e credo molto bene. Molto bene, dunque ancora un titolo o due, lui si chiama Lucio Battisti, cantante di tutte le generazioni, canta Anna, poi Lucio dalla cantera Anna e Marco, noi ci ritroveremo subito dopo dunque per parlare della vittoria del Sefsen, l'ultimo campionato di calcio, di calcio, di pallavolo. Niente, bellissima vittoria, ha fatto piacere a tutti quanti con Francesco Cadedu, l'allenatore della squadra e il vicepresidente degli SSL, musica maestro. Eccoci di nuovo in studio con Francesco Cadedu, dunque allenatore del Sefsen Club, squadra femminile di Cartagine e l'SSL, vicepresidente e poi primo responsabile direi di questa bellissima squadra. Francesco, prima di parlare sport, due parole, stavamo parlando così di Lucio Dalla, ti piace in modo particolare? Sì, Dalla piace a tutti gli italiani in modo particolare, è stato un cantante probabilmente il più seguito in Italia e da quando è morto è diventato ancora più famoso in Italia e all'estero, anche in Romania l'anno scorso dove stavo allenando stavano iniziando a conoscere qualcuna delle sue canzoni meno famose, che però tipo Anna e Marco perché in Italia è molto famosa, fuori dall'Italia non tantissimo, però iniziava ad essere ascoltata anche e passata nelle radio straniere. Sport e musica vanno insieme? Sì, sì, decisamente. Io amo, quando facevo solo il preparatore, il secondo allenatore, ho sempre amato fare fitness, pesistica e riscaldamento pre partita o pre allenamento sempre con la musica. È una cosa che aiuta e anzi alcune volte quando si è in momenti difficili di una partita il mio consiglio è cantate, pensate a qualcosa che gli faccia star bene e la musica credo che sia. Vi dà più energia, più voglia. Sì, e poi fa passare i pensieri. Allora chi è Francesco Caddedu? Beh, guarda, intanto sono uno fortunato, fortunato perché diciamo che le scelte sportive che ho fatto negli ultimi anni mi hanno sempre portato a essere in club prestigiosi che volevano e hanno fatto di tutto per arrivare ai loro obiettivi. Qualche volta l'obiettivo era molto difficile, qualche volta era un po' più facile da centrare, però diciamo che la mia fortuna è aver avuto la capacità di scegliere fidandomi delle persone. E poi la fortuna è di allenare sempre giocatori che sono stati e si sono dimostrati dei vincenti, prima, durante e dopo essere stati con me. Dal punto di vista personale sono uno che fa le cose che vuole, dice le cose che pensa, sempre, perché se devo pagare pegno per qualcosa preferisco farlo per un'idea mia che per l'idea degli altri, questo da sempre. Ed è per quello che vado d'accordo quasi con tutti. E allora Francesco è arrivato a Cartagine, dietro c'era una persona qui presente, l'amico Elieze. Da dove conoscevi Francesco? Come hai fatto per portarlo a Cartagine due mesi prima del campionato africano di pallavolo? Giustamente, soprattutto voglio tornare al nostro carissimo ex coach Anur Shkili, che noi l'abbiamo scelto dall'anno scorso per cominciare a fare un anno con Anur Shkili. Motivi di salute. Sì, era sfortunato, aveva un problema di salute un po' grave, che non poteva rimanere il game. In Bocca al lupo Anur? Sì, in Bocca al lupo, il nostro carissimo Anur, che ha fatto per le quattro mesi, che ha fatto con noi, ha fatto un bel lavoro. Penso che condividi con me che chi, quando è venuto, ha trovato una squadra già ben preparata. In questo momento era per noi in catastrofe, dobbiamo fare la scelta. Siamo noi facili da trovare un allenatore a livello del CFC, che può essere allenatore del CFC, con tutti gli obiettivi che abbiamo, sempre giochiamo per la scudetto nazionale. Un tecnico libero soprattutto per questo periodo, ecco. No, lui non era libero in questo momento là. Sai quando sono andato a incontrare Keke, ha fatto più da quasi 400 km per venire vedermi a Padova. Io ero per un viaggio di business. Fai viaggi di business vicino a Venezia. Giustamente ero a Venezia, da Venezia sono passato la notte a Padova per vedere. Keke, sono sempre in questa zona lì. Allora ho fatto l'incontro con lui, ho spiegato il progetto che di qua abbiamo bisogno e abbiamo parlato un'ora e mezzo la sera e dopo siamo, penso abbiamo trovato un accordo veloce e veloce. Lui era molto determinato a prendere decisioni. Come sono arrivati a lui? Io sono un po' dentro il mondo del palavolo italiano, ho delle conoscenze, varie conoscenze nel mondo del palavolo italiano. Appena abbiamo saputo che il nostro carissimo Emanuele Orschini non poteva rimanere con noi, ho già fatto i miei contatti con tutti quanti per poter trovare qualcuno. Mi hanno fatto delle proposte, più da 10 persone, ma quando ho visto il CV di Keke, anche alcuni ben amici che mi hanno fatto il consiglio da andare a lavorare con lui. E ha detto sì subito? Io ho spiegato prima il nostro progetto. Penso lui è un uomo, un coach abbastanza intelligente che ha capito il nostro progetto, il progetto CFC. Solo se puoi darmi un minuto perché devo dire come siamo fatti, come è organizzato il CFC. C'è il nostro presidente, il dottor Khaib Namor? Aspetta, questa è una domanda da parte della quale parleremo fra qualche minuto. Ci dirai tutto a proposito della squadra, di quelli che hanno costituito questa squadra con a capo il dottor Khaib Namor che salutiamo. Prima però Francesco o Keke. Keke, sì va benissimo. Allora, un tuo parere sulla pallavolo femminile al tuo arrivo? Allora, prima di tutto, per ricollegarmi a Ilias. Io non ero libero, allenavo in Austria, a Innsbruck, dove stavamo vincendo il campionato. Anzi, domani hanno l'ultima gara di play-off e faccio un in bocca al lupo all'Ipo-Tirol. Eravamo appena stati eliminati dalla Champions League europea. Quando mi sono incontrato con Ilias mi ha spiegato quello che era l'obiettivo del club, quella che era la programmazione, quelle che erano le idee, ci ho pensato un giorno e mezzo. Ma perché, giustamente, dovevo parlare con la mia famiglia e, sai, da Milano andare in Austria. Dopo che sono tornato dalla Romania, prendere tutto e trasferirmi in Tunisia, gli ho chiesto giusto il tempo per riuscire a fare il trasloco di tutte le mie cose e scendere direttamente a Tunisia. Dopodiché, quando sono arrivato, ho trovato un livello tecnico mediamente alto, nel senso, mi aspettavo tecnicamente fosse più basso, invece, il livello tecnico, devo essere onesto, è alto. Non solo del CFC, parlo delle squadre contro cui abbiamo giocato, quindi la Marsa, Asfax, Hawaria e Cartagine. Dal punto di vista fisico, secondo me, e su questa cosa insisto molto con le ragazze e con il mio reparto d'atletico, bisognerebbe iniziare a capire che quando si fa dello sport il proprio lavoro, comunque la propria passione, bisognerebbe dedicarci al 100% anche fisicamente. Quindi iniziare con una idea del essere fisicamente un giocatore, uno sportivo, quindi rinunciare a qualcosa di buono e mettersi in testa che il proprio obiettivo fisico deve essere stare in un range abbastanza chiaro. E dal punto di vista organizzativo io posso parlare solo della mia società e ti assicuro che in Italia, e comunque dove sono stato in giro per l'Europa, organizzati in questo modo non ne ho trovato nessuno, quindi non so se le altre società tunisine siano organizzate così, mi hanno parlato molto bene dell'Esperanz che però è una multisportiva diciamo, però organizzata come il CFC onestamente non... io nella mia vita non ne ho mai trovate e sono stato nelle due delle società più organizzate in Italia che sono la Lube Macerata e la Nuticune con cui ho vinto due scudette, anzi tre scudette in Italia, però organizzate così non ci sono. Allora prima di parlarci del CFC, il club femminile di Cartagine Lies, due parole sul livello della pallavollo femminile in Tunisia. Quali sono le cose da migliorare? Cosa si deve fare? Allora secondo me, ma è un'idea mia, chiaro fatta di due mesi, fatta in due mesi e mezzo in cui sono qui a Tunisi, intanto la tempistica di allenamento nel senso, io arrivo da una pallavollo in cui non c'è un limite, cioè si sa quando si inizia, non si sa quando finisce. Un allenamento può durare un'ora e mezza, può durarne anche tre e questo prevede un'organizzazione di squadra importante. La mia squadra onestamente ce l'aveva, poi a prescindere dal fatto che a volte si debba spingere un po' di più perché magari uno non è abituato a stare sotto pressione molto tempo e quindi dico agli allenatori che secondo me bisogna sempre chiedere il 100% alle proprie giocatrici e il 100% a volte non è sufficiente, bisogna chiedere un po' di più e non bisogna pensare che loro non vogliano farlo o non vogliano dare il 100% perché se ogni atleta vede che il proprio allenatore, il proprio staff, composto da preparatore atletico, secondo allenatore e terapista, danno tutto quello che hanno, si sentono in obbligo di dare l'altrettanto. È chiaro che ogni tanto, ed è capitato anche a me in altre situazioni, l'allenatore tende a non dare il 100% e quindi dà alibi alle proprie giocatrici di non dare e di fare la stessa cosa. Dal punto di vista tecnico, ripeto, io ho trovato una pallavollo femminile turesina di alto livello. Alla fine di questi africani per club dico che la nazionale tunisina, a mio parere, ha tutte le carte in regola per vincere gli africani anche per nazioni, non solo per club. Dell'estate prossima. Sì, perché io credo che abbiamo, noi abbiamo vinto il campionato africano ma non è quello solo che conta, c'è Sfax che ha ottime giocatrici, la Mars altrettanto, abbiamo giocato con Cartage che ci ha messo parecchio in difficoltà e altre giocatrici che sono tra Chilibia, tra Awaria e in giro per la Tunisia. Io credo che ci sia tutte le cose per fare bene, compreso il livello atletico, o meglio il livello fisico, ragazze alte, ragazzi forti, strutturalmente. Bisogna solo capire che non si può inventare le cose, non bisogna programmarle come il CFC ci sta facendo da anni e la programmazione porta ad accentrare i propri risultati. A me piace molto parlare di target con le mie giocatrici e con la mia società. E accetteresti di prendere in mano la nazionale Tunisia per parare il prossimo campionato? Io dico perché no. Qualche mese prima. Però chiaramente deve essere un continuo, prendi la nazionale ma puoi continuare a fare il CFC perché io non ho intenzione di mollare la società per nessuna ragione al mondo. Allora, Lies, ritorniamo con te. Il SEFC, club femminile di Cartagine, esiste da sei anni. Dopo sei anni è campione d'Africa. Dopo il quarto tentativo, dal quarto tentativo era quarto, il terzo era terzo, al secondo tentativo era al secondo posto e poi quest'anno è al primo posto campione d'Africa. Un club che fa sognare, direi. Non è così? Allora, cosa ci puoi dire? Come è cominciata questa avventura? Con chi? Quali sono gli obiettivi futuri? Allora, soprattutto voglio parlare prima della Coppa Africa perché quando il CFC era nato in 2011, non abbiamo cominciato a parlare della Coppa Africa solo da fare in club perché in quest'anno qua, ti ricordi bene la rivoluzione, allora la prima cosa, la prima visione è come poter fare a riunire tutte queste giocatrici che cominciano a uscire delle loro squadre per tenere un squadra di pallavolo femminile, così. Ma piano piano abbiamo cominciato a lavorare, a lavorare bene, abbiamo cominciato a vincere anno dopo anno e scudetto, dopo abbiamo cominciato anche a vincere anche la Coppa e abbiamo capito che noi, tra virgolette, possiamo essere la portabandiere della pallavolo tunisina. E l'abbiamo deciso di essere così, di alzare anche il livello nostro, della nostra squadra e dare un nuovo, diciamo, push per spingio per le immagini del pallavolo tunisino femminile. E abbiamo detto, questo qua passerà tramite la Coppa Africa. Se facciamo una bella figura, cominciamo a fare la bella figura, ma abbiamo progettato a vincerla. È la prova che noi abbiamo un allenatore di un certo livello, abbiamo preso l'anno scorso e anche quest'anno delle giocatrici stranieri, l'anno scorso era una brasiliana o una pregiatrice e quest'anno una posto 4 dall'Ucrenia e facciamo gli stage, facciamo poi un messo. Avete preparato quest'ultima competizione in Italia durante due settimane? Diciamo dieci giorni, erano dieci giorni, ma devi sapere che dietro questa squadra c'è un gruppo amministrativo. Allora, vogliamo conoscere queste persone, sono tre. C'è a capo il signor Hal Benamur, preside direttore. No, siamo molto di più. Sì, sì, ma sto parlando di Hal Benamur. Allora, la struttura è fatta così e abbiamo anche, dividiamo anche le responsabilità. Ci sono altri due vicepresidenti. C'è Hal Benamur che è lui, il dottor Hal Benamur che è lui, il presidente. Dopo c'è Fawzi Benjanet che è lui vicepresidente ma il primo responsabile della squadra, della prima squadra, le seniors. Abbiamo Mohamed Saiden, vicepresidente responsabile, più responsabile della parte finanziaria e l'organizzazione del club. C'è anche Ilias che sono vicepresidente responsabile del sviluppo della parte sportiva. Organizzo io le stage, comincio a fare la scelta, a fare anche... Come, dove e quando? Sì, 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 quanto costa. Anche io penso che il mio obiettivo sia il sviluppo del nostro club. Abbiamo Badr Di Noeli, un vicepresidente che aiuta molto anche nella parte finanziaria. Non pratica con noi, ma si trova con noi. La segretaria generale Safi Mqaddam, un segretario permanente di Wahid Ghawi, un team manager Rafah Bawandi, un responsabile degli giovanili Nordin Khiari e... Una squadra che si occupa, come si deve, del sefse, di queste ragazze. Francesco, durante questa competizione, quando hai avuto veramente paura? E quando ti sei detto ce la possiamo fare? Ma io... Allora, non voglio peccare un po' di presunzione, ma paura non ce l'ho mai avuta. Cioè, le paure me le tengo per i fatti della vita. Per i fatti dello sport mi tengo la presunzione di arrivare sempre preparato quando conta. Poi uno può vincere o può perdere, questo fa parte dello sport, per carità, e della vita. Però ho paura... Io ripeto, ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada club che hanno puntato in alto e giocatrici e giocatori che si sono dimostrati campioni dentro il campo e anche fuori. Io, onestamente, guardando le mie giocatrici, dal primo momento ho detto, ragazzi, noi abbiamo un obiettivo, un obiettivo è grande, dobbiamo arrivarci un passo alla volta. So che per un mese sono stato quasi insopportabile, so che per un mese ho tirato la corda in ogni cosa, dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico. Ho fatto veramente il possibile e le ragazze mi hanno seguito sempre, nessuno si è mai lamentata. Chiaramente adesso dopo quattro settimane, dopo aver centrato l'obiettivo, c'è un po' di rilassamento mentale, che non vuol dire non essere pronti per giocare sabato, ma vuol dire solo che adesso gli acciacchi che avevamo anche prima si sentono un po' di più. Ma grazie allo staff medico e fisioterapico faremo di tutto per farli passare entro sabato. Però ho paura mai, onestamente, anzi. E allora quando ti sei detto ce la possiamo fare? Io quando mi sono detto ce la possiamo fare è quando eravamo 14-11 al tiebreak, perché comunque come non ho paura non penso mai di aver vinto una partita finché non è finita. Ad un punto dunque della vittoria. Sì, sì, sì. E poi uno magari la sensazione ce l'ha prima, però la certezza ce l'hai solo ed esclusivamente quando sei all'ultimo, non passo, ma proprio stai tagliando il traguardo. Lì hai la certezza di aver vinto. Allora fra qualche minuto parleremo di altre cose, vedremo se Francesco rimane o no a capo del SFC, parleremo della nazionale tunisina maschile, vedremo cosa sa di Antonio Jacob che è diventato ultimamente il nuovo capo della nazionale tunisina, dunque che sta preparando la World League e poi il campionato africano. Parleremo anche dell'Etoile che ha vinto il campionato ieri, cercheremo di avere il parere di Francesco sulla pallavolo tunisina, poi di altre cose con l'amico Gliessehli qui sul SFC, sul programma di questo fine settimana, so che ci saranno le semifinali del campionato. Per adesso una pausa musicale con Fabio Volo che canta Io e te, subito dopo Luca Dirisio in Magica, noi ci ritroveremo subito dopo. Musica Maestro E sono le 16.45 di nuovo in studio con Francesco Cadedu e poi Gliessehli per parlare del SFC, club femminile di Cartagine che ha vinto recentemente il campionato africano di pallavolo, un titolo che ritorna in Tunisia dopo un po' meno di 30 anni. Non so se è un dettaglio che conoscete o no. L'ultima vittoria era del club africano, se ricordo bene. Comunque, Francesco, riprendo a parlare con te della squadra, delle ragazze. So che tu non sei ancora sicuro per quello che si farà prossimamente dopo la fine di questa stagione. So che tu hai detto a Marine Brick se rimango, rimani. Sì, allora, glielo ho detto io, glielo ho detto prima di vincere il campionato africano per club, era un giorno ad Awaria in una partita che aveva poco da dire, anzi lei non giocava proprio perché era infortunata. Io glielo ho detto perché credo che quando si arrivi all'età di Marine, che è 38 anni, ha una famiglia, ha un marito, una figlia, magari le motivazioni si pensa che siano di meno. Invece quando la vedo allenarsi, quando la vedo in palestra, quando devo urlare con lei o quando la vedo fare qualcosa che mi piace, mi piace molto e sono convinto che le motivazioni che ha tuttora e che avrà l'anno prossimo se deciderà di continuare e io insisterò molto se dovesse rimanere sono le stesse di quando ha iniziato a giocare. Forse è un po' più esperta, riesce a gestirsi un po' meglio. Però sì, l'ho detto a lei, ma non l'ho detto solo a lei, comunque a lei principalmente. Un'idea sulla rosa che ha a disposizione, come sono le qualità, i difetti che dovrebbero correggere? Ma allora, io di difetti cerco di non vederne mai perché dentro la palestra, a parte quelli tecnici che sono quelli di ogni giocatore, quindi magari un po' troppi errori in alcuni fondamentali o un po' meno efficaci in altri, al di là di quelli credo che la mia sia una squadra quasi perfetta, nel senso che è un insieme di ragazze più esperte come può essere Mariem, ma non solo, abbiamo Hulud, abbiamo Rak, ma io i cognomi faccio fatica e non li ho imparati a proposito perché già con i nomi ogni tanto confondo qualcuno. Diciamo che è una squadra che mi piace, mi piace molto dal primo allenamento, ho detto questa è una squadra che può arrivare lontano, perché ha tecnica, perché ha carattere, perché ogni volta che viene solleticata e spinta a fare qualcosa di più, lo fa, è un po' come le squadre maschili. Guarda, io non vorrei parlare individualmente di nessuno perché questa è una squadra che veramente può giocare chiunque, perché come dico sempre prima di ogni partita, prima di ogni partita importante, si vince e si perde con la squadra, il resto è solamente un mettersi a disposizione, chi fa l'ultimo punto, chi fa il primo, chi fa un es, chi fa un muro, lo fa perché ha le compagnie di squadra che in allenamento, in partita la spingono a fare le cose che sa fare meglio, quindi anche i premi individuali che mi hanno vinto al campionato africano, miglior pareggiatore, miglior battuta, miglior schiacciatore, rimangono fondamentalmente dei premi che ogni giocatrice si merita, ma che si merita tutta la squadra e quindi loro stesse sanno benissimo che un palleggiatore può essere bravissimo, ma se poi un attaccante tira fuori e non mette la palla per terra, il palleggio è una cosa poco importante. Francesco, brevemente, perché questa scelta da parte tua, la pallavolo femminile? Allora, ti giuro che fino a due anni fa ho detto mai più pallavolo femminile, io ho fatto gli ultimi 16 anni nella maschile, in Serie A in Italia, ripeto, sono stato fortunato perché negli ultimi otto anni con lo staff con cui ho lavorato abbiamo vinto tre scudetti, due coppe d'Italia, tre supercoppe, una coppa CEV, insomma abbiamo vinto tanto, due campionati da due, due coppe d'Italia da due. L'anno scorso la mia fidanzata è andata a giocare in Romania, a Bucharest e io ero con la nazionale slovacca e finito il periodo con la nazionale dopo l'eliminazione degli europei mi hanno chiesto da Bucharest perché non rimani, io ero attualmente disoccupato e ho detto va bene, non avevo intenzione, cioè non era la mia primaria scelta quella di farla femminile ma ho avuto l'occasione di stare con lei un anno e di lavorare nello stesso team, è andata bene perché abbiamo vinto la Challenge Cup che è una coppa europea importante, tra l'altro prima volta nella pallavolo femminile rumena e quindi ero però tornato alla maschile finché Ilias non mi ha convinto che qua si poteva fare molto 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 bene anche nella pallavolo femminile. E tu mi dai la possibilità di rivolgermi a Ilias, è stato lui ad andare in Italia per cercarti, per portarti qui a Tunisi e Ilias faccio la domanda a te, lui rimane o parte? Oggi ti dico una cosa, due settimane prima la Coppa Africa abbiamo già detto a Keke che noi abbiamo un progetto del primo giorno, del mio primo incontro con Keke ho detto abbiamo un progetto, frega niente se prendiamo neanche la Coppa di Tunisia e il campionato di Tunisia a scudetto, per noi vogliamo fare il progetto e alzare il livello della nostra squadra e siamo quasi messi d'accordo per finire con noi al minimo nei prossimi tre anni. Sì, speriamo che anche lavoriamo da una maniera. sì, lui. E allora ci sarà un'altra un'altra trasmissione qui con noi per il programma in lingua italiana. Ritorno con te Francesco. Prima però vorrei salutare una donna che ci sta ascoltando. Abbiamo salutato Khal Benamori il presidente, abbiamo salutato Fauzi Benjanet, Mohamed Seyden, Raffa Al-Bavondi, ma lei dobbiamo per forza salutarla, lei si chiama Amel Mrade in ascolto e lei è la fondatrice direi, la fondatrice di questa squadra di pallavolo, tante buone cose Amel. E poi niente, di nuovo con te Antonio, Francesco parliamo di Antonio. Antonio Jacob, cosa ne pensi? Io so che è un pezzo di storia della pallavolo italiana, quindi della mia pallavolo e non ci siamo mai incontrati, non sui campi di pallavolo almeno, forse in qualche corso di aggiornamento sì, che lui teneva e io andavo ad ascoltare. Gli auguro un grosso in bocca al lupo perché secondo me in Tunisia ha fatto molto bene. Lo chiamano l'africano? Devo essere onesto, adesso chiamano così anche me in Italia. Sì, questa è una cosa che dovevamo dire, il tuo successo, la vittoria con il CFC, il CFC, la stampa italiana ne ha parlato. Sì, ha sorpreso molto anche me perché la pallavolo femminile è seguita un po' meno di quella maschile, ma sia la Gazzetta dello Sport che la Gazzetta Online, che il Corriere dello Sport, che i siti online di pallavolo italiana, quindi pallavolo.it e il blog di Pasini che poi è il giornalista di Gazzetta dello Sport, che si chiama dal 15 al 25, hanno parlato della vittoria del CFC. Onestamente ogni settimana parlano dei risultati che il CFC sta facendo. È in una rubrica, questo è il blog di Pasini, che parla degli italiani all'estero. Evo Le Bolan che sta mettendo molto spesso i risultati della pallavolo tunisina femminile. Per la maschile credo che aspettino che arrivi Antonio per riparlare ancora una volta della pallavolo tunisina. Ecco, mi dai la possibilità di parlare della pallavolo maschile, non so se hai vinto, hai visto piuttosto la finale Etoile-Esperance di Ieri, era l'incontro decisivo, la Belle, come si dice in francese, vinta dall'Etoile, l'Etoile che succede all'Esperance, sono queste due squadre che stanno dominando la pallavolo tunisina. Un tuo parere sulla pallavolo maschile? Allora, io ho visto qualche partita dell'Esperance perché anche una squadra italiana è stata qui per giocare un amichevole, anzi due amichevoli con loro. Per quello che ho visto io, il livello maschile tecnico e fisico è molto alto. Io ho insistito perché venissero squadre di A1 italiana per giocare contro l'Esperance, non conosco e non conoscevo l'Etoile perché l'ho vista solamente in televisione durante i play-off e credo onestamente che molti giocatori tunisini possano, se vogliono, aspirare a giocare in campionati europei. Al di là dei due che già ci sono, uno in Francia con il professor Prandi e l'altro in Turchia al Fenerbahce. Ripeto, secondo me la pallavolo maschile sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico molto simile alla pallavolo europea e che secondo me rimane quella da seguire come tecnica, come gioco e come risultati. Per la finale io ho visto solo l'ultimo sede ieri perché stavo sistemando le mie cose dopo tre settimane in giro per Italia e Tunisia e chiaramente due squadre che si conoscono molto bene, che già si erano affrontate nell'Africa. La cosa stranissima è che salti sempre il fattore campo perché sia nella Coppa d'Africa... L'attuale ha vinto quattro volte a Tunisi e l'Esperanza ha vinto due volte a Sus. Quindi questa è la cosa particolare che in Italia capita molto 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 raramente, soprattutto in una serie lunga o comunque in tante partite tra le stesse squadre. Io credo che in tante partite come quelle che si sono giocate alla fine si conosca veramente tanto bene che a fare la differenza sono i piccolissimi dettagli e quello che ho potuto notare ieri è stato che l'Esperanza non ha battuto come l'ho vista fare in altre partite, sia con la squadra italiana che in partite di campionato, mentre l'Etoala ha giocato bene il cambio palla e a muro. A muro mi hanno impressionato perché solo nel tie break ne ho contati 4-5 e insomma sono quelli che poi fanno la differenza. Il tempo passa ma molto presto, sono già le 16.56 e stiamo per concludere l'Es. Le Moodle la fa come si dice in francese. Cosa vuoi dire? Prima di proporre agli ascoltatori un ultimo titolo si tratta di Fabio Concato che canterà a Fiore di Maggio. Il nostro sogno è sempre grande. Noi vogliamo, non si ferma qui il CFC, vogliamo anche organizzare il Masters di Cartagine che vogliamo fare una competizione internazionale all'Anfiteatro di Cartagine e questo è il nostro sogno. Grazie Ilias, grazie Francesco, una parola per concludere? Allora Ilias ha parlato di un triennale, io penso e spero che si possa definire con la società in tempi brevi e poi vorrei che in palestra a vedere le nostre partite ci fosse un po' più di gente, non perché ce lo meritiamo noi in particolar modo, ce lo merita la parla volo tunisina, noi la Marsa, Sfax. Alla fine credo che chi investe nello sport debba sempre essere ricambiato almeno in termini di pubblico e di interesse. Dopodiché si può vincere, si può perdere, ripeto, questo è lo sport, a me non piace perdere, però capita e credo a tutti i allenatori non piace perdere. Il bocca al lupo a tutti quanti al SES che gioca questo fine settimana la semifinale andata del campionato contro la squadra vicina di casa, si tratta dell'Union Sportivo di Cartagine, di Cartagine, l'USA. Grazie a Fai Sirelelli per l'ascolto, Musica Maestro sarà l'ultimo titolo per oggi, grazie del passaggio e poi niente, a martedì prossimo, ciao a tutti! Tu che sei nata, dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole c'è, l'hai dentro al cuore, sole di primavera, su quello scoglio di mare.